ciao a tutti bentornati siamo qua con demon soul eravamo rimasti nel video precedente che dovevamo attraversare la nebbia siamo nella torre di latria dobbiamo attraversare la nebbia che molto probabilmente ci sia un boss dietro adesso andiamo avanti e vedremo ok qualcosa di bello non è infatti un boss mangia uomini perfetto meglio di così ecco sei pure stronzo è cornutissimo mister allora andiamo di magia e sei anche veloce 127 a colpo va bene va bene è un pochino stronzo ma perché non si è volato giù mega bug bom stai mo lì però becca ma cazzo eh no ma perché non voli giù bastardo schifoso ah voli pure ma vabbè che cosa farò boh dove è andato vola pure sto bastardo e diventa anche nebbia dove sei minchia allora uno devi startene fermo non fa neanche tanto male ma ti stai fermo è buono dietro mamma mia eh due perché due la questione si fa sempre più critica molto critica oh siamo calmi se no 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 ma quanto siete bastardi mamma mia cioè mo ritornare lì ciao se vatti a ricordare mo come innanzitutto cerchiamo di tornare vivi occhi effimeri qua va a andarsi a ricordare tutto allora proviamo di qua la ricorda di andare più veloce possibile ehm magari usiamo la spada ecco corri 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 si te ti cagherò poi devo andare su sperando che sia questa la strada non mi ricordo un gran che di là di là no o di là o devo continuare a andare su credo che devo continuare a andare su si si mi sa di se cerchiamo di non volare di sotto non cominciare puro tu ma anche gli spettri oscuri si rigenerano in sto gioco maledetto cosa mi lasci? pezza fresca ottimo mi serviva proprio non ricordavo così lungo per arrivare su olè 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 ora che non c'è più nessuno la spada per ora ok mi devo curare vabbè usiamo uno di questi guarda per quanto maremma e vediamo di fare il culo sti due gargoyle maledetti puntalo è uno è due dai bombardalo bombardalo dai 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 si si fa niente no 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 bravissimo fa niente fa niente madonna che tira delle sassate ma porca troia no no non mi buttare giù di nuovo assassino maledetto no non chiamare l'altro che ma è già rotto uno alla volta dai muori muori no è arrivato l'altro dai 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 è uno andato ferma mi devi dare il tempo anche di curarmi un po' sai mister così va bene così va bene no non chiamare nessun altro perché dai ole ecco bravo no 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 stavi tanto bene beato lì devi rompere le scatole bastardo schifoso mi ha tagliato la cosa ole no mamma mia che culo tanto culo dove stai andando dai vieni qua fatti rompere il culo gli ultimi minuti bravo così ma no 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 ecco stai mo lì no 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 eh si scherzi scherzi o sei stronzo sei proprio stronzo scherzando mamma mia allora saluta massorata panavide ultimo colpo ok basta oh quindi sono due gargoi di merda proprio quanto mi lasci solo 13.000 trofeo tutto riprendo le mie anime ecco arriviamo a 61.000 e poi vediamo se c'è la ricipietra ma cosa dice il prossimo nemico è nel cuore quindi c'è un altro boss no un boss dietro l'altro no non non lo reggo erba calante ok carichiamo energie la epm andiamo a vedere che cosa ci attende vabbè c'è la ricipietra perfetto innanzitutto tocchiamo l'anima demonemista ok questa è una grata non vorrei che fosse un ascensore c'è una scala innanzitutto prendiamo qui anima soldato è il soldato famoso ok bene ragazzi io direi che mi fermo qua abbiamo fatto quel boss mangia uomini i boss perché erano due gargoyle veramente cornuti prossimo video andremo avanti come al solito spero che il video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi al canale mettere un like al video e al prossimo video e al prossimo video